Resta viva l'attenzione sulla frana che venerdì scorso ha provocato la chiusura della statale 163 Amalfitana, tanti disagi sul territorio. Dopo la riunione in prefettura a Salerno, presieduta dal prefetto Francesco Russo, con i sindaci sono state individuate le strade alternative da utilizzare per il trasporto pubblico, mezzi più piccoli invece per quello merci. Intanto la provincia e i comuni di Maiori, Tramonti e Corbara hanno deciso di sottoscrivere un accordo per effettuare controlli congiunti sulle arterie di accesso. La sita si è impegnata a potenziare le corse che attraverseranno il valico di Chiunzi e il comune di Corbara, mentre sarà necessario incrementare anche i collegamenti via mare. Io ritengo doveroso per un rappresentante del governo sul territorio di curare le comunità in cui vive, per cui è ovvio, soprattutto quando si verificano. Sappiamo che sulla costiera recentemente ci sono stati i movimenti franosi, sono gravi. C'è soprattutto da compattare, questo vedo che mano a mano cominciano a vedersi delle cose, delle luci importanti, compattare un fronte dei sindaci relativamente a delle scelte, soprattutto di controllo. La costiera è una perla, però molto delicata. Bisogna tenerla sotto cura costantemente, c'è bisogno della partecipazione di tutti, insomma, del prefetto ma di tutti quanti.